Sono stati i giornalisti testimonial della campagna anti-influenzale d'Arezzo che questa mattina assieme al direttore dell'ASL e agli sportivi e ai retini hanno deciso di metterci la faccia per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di una maggior copertura possibile dei vaccini contro l'influenza, in particolar modo per le fasce più a rischio come gli over 65. Io sono una testimonianza vivente perché sono almeno 30 anni che mi vaccino nei primi giorni di novembre per evitare di ammalarmi a gennaio, ma non lo facciamo solo per noi stessi, lo facciamo anche per gli altri. Ogni anno muoiono in Italia 9.000 in genere anziani per polmonite, beh pensate che 9.000 persone muoiono perché non ci si è vaccinati, non si sono vaccinati loro, non si sono vaccinati i loro congiunti, i loro figlioli, insomma vivono sicuramente in ambienti dove non si è curato il vaccino. Vaccinarsi è un minuto, il dolore non si sente, gli effetti colaterali sono zero e io sono alla trentesima almeno vaccinazione lo posso dire con certezza e sono un segno appunto di civiltà. Il picco massimo di influenza è previsto ad inizio gennaio, quindi è consigliato immunizzarsi tra novembre e dicembre. La vaccinazione è raccomandata ed offerta gratuitamente alle persone di età pari o superiore ai 65 anni e a persone affette da patologie che possono aumentare il pericolo di complicanze da influenza. Lo scorso anno solamente il 58% della popolazione over 65 si è vaccinata contro l'influenza in provincia di Arezzo, l'obiettivo ministeriale è quello del 75%. Quest'anno oltretutto è decisamente molto più importante, è importante sempre, però quest'anno le premesse sono piuttosto catastrofiche, quindi vaccinatevi e soprattutto dite a tutti di vaccinarsi.